Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso diverso dai soliti e sicuramente difficile da narrare. Questa storia non ha come protagonista un assassino che si è macchiato di un omicidio doloso, bensì la superstizione, il male, la religione. Questa vicenda è agghiacciante. A mio avviso riguarda un delitto davvero orribile e assurdo al tempo stesso. Prima di addentrarci nella narrazione del caso, voglio farvi alcune domande. Siete credenti? Che cosa pensate delle possessioni demoniache? Secondo voi, esiste il diavolo? Questi quesiti inquadrano proprio l'argomento centrale del video di oggi. Adesso proiettiamoci nel luogo in cui si sono svolti i fatti. Siamo a Polistena, un paese di poco più di 10.000 abitanti, situato nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. È il 1993. Il territorio della località si presenta prevalentemente agricolo e aspero. La sua cultura trabocca di superstizioni, leggende e credenze, che allontanano Polistena da quella parte del mondo in procinto di affacciarsi al nuovo millennio. Infatti, come hanno stabilito gli studi scientifici condotti nei secoli per indagare la storia dell'umanità, la superstizione dovrebbe essere relegata a un passato ormai remoto, ma in alcune realtà non è così. Anche l'età contemporanea, di fatti, è segnata da episodi recidivi degni di racconti più datati, cioè che sembrano risalire all'epoca in cui la superstizione e le credenze si insinuavano e condizionavano ogni aspetto della società e della vita quotidiana. Quella di Polistena è la storia di una coppia che, come tanti, in un momento di difficoltà, si appoggia a un pilastro essenziale. La famiglia. Una famiglia formata da persone semplici, umili, le cui menti sono intrise di una cultura popolare cristiana profondamente devota, che, per certi versi, stride con le conoscenze diffuse verso la fine del XX secolo. Dunque, chi sono i componenti di questa famiglia? Ebbene, innanzitutto la coppia è composta da Michele Politano, di 23 anni, e Laura Lumicisi, di 20 anni. Da alcune fonti ho appreso che erano entrambi braccianti agricoli. In altre è indicato che Michele fa il muratore, anche se spesso è disoccupato, mentre Laura fa la casalinga. La coppia abita al secondo piano di una palazzina in via Esperia. Il livello inferiore dello stesso edificio è occupato da Maria Rosina, ossia la mamma di Laura, di 47 anni, che aveva messo al mondo altri due figli, Vincenzo e Domenico, detto Mimmo. Nei dintorni vive anche Maria Barnabà, di 21 anni, cugina della madre. Altri parenti del nucleo si sono invece trasferiti a Roma, cioè Mirella Lumicisi, la sorella 33enne di Rosina, e dunque la zia di Laura, purtroppo affetta da sclerosi multipla, e suo marito Vincenzo Furtini, che lavora come fornaio. Quella che vi descrivo è una famiglia molto unita. Infatti, anche se Roma è lontana da Polistena, Mirella sente molto spesso i suoi parenti, con i quali intrattiene lunghe telefonate. La vita della famiglia è adombrata da una disgrazia. Francesco, il padre di Laura, ha una terribile malattia, un tumore. La sua salute dunque viene affidata ai medici, come è giusto che sia, no? Purtroppo, non solo. Francesco viene spesso visitato dai maghi del paese. Pur in presenza di un evidente problema di tipo medico, i maghi ribadiscono che Francesco, in realtà, non è affetto da alcun male. Piuttosto, è vittima di una fattura, ed era stato proprio un parente a rivolgergliela. La famiglia crede a queste conclusioni, ma la malattia di Francesco, ahimè, fa il soccorso, e l'uomo viene a mancare. Nel frattempo, a ottobre, Laura si era sposata con Michele, ed è incinta da poco, ma poi era andata a vivere a casa di Rosina. Laura dovrebbe essere felice del lieto evento della maternità, invece è profondamente turbata. Cosa la preoccupa? Da qualche mese, precisamente da gennaio, Laura ha iniziato a sentire degli strani rumori o scricchioli per casa. Man mano che passava il tempo, i rumori erano peggiorati, diventando sempre più assordanti, e, a quanto diceva Laura, si espandevano pure. Inizialmente Laura li percepiva soltanto a casa sua, ma poi i rumori avevano raggiunto anche la casa di Maria Rosina, al piano di sotto. Per ironia della sorte, l'edificio in cui vivono era stato eretto proprio sulle rovine di un cimitero sconsacrato. Se avete visto qualche film horror, incentrato sul soprannaturale o sulla figura del maligno, saprete che i rumori strani sono una caratteristica dominante delle case infestate da fantasmi, spiriti o demoni. Tuttavia Laura e la sua famiglia avevano provato a giustificarli con qualche motivazione razionale. Insomma, ci doveva pure essere. Purtroppo però i rumori non erano cessati, anzi erano diventati sempre più presenti, sempre più inquietanti. I membri della famiglia ne discutevano tra loro e i sospetti che si trattasse di qualcosa che va al di là dell'umano avevano fatto capolino nelle loro menti. Siccome tutti professavano la fede cattolica, avevano deciso di rivolgersi a un prete, il quale si era recato nella palazzina di via Esperia e aveva benedetto la casa. Tuttavia questi rumori non erano cessati, così era stato chiamato un altro prete. Il sacerdote, una volta entrato in casa, aveva chiesto il permesso di celebrare una messa. Anche in questo caso la situazione non aveva dato segni di miglioramento, anzi. Laura, oltre a percepire i rumori, aveva iniziato a vedere delle strane ombre. Sentiva pronunciare il suo nome, qualcuno glielo sussurrava mentre era in casa da sola. Dunque è questo il contesto in cui Laura è rimasta incinta. La sua gravidanza non è serena perché Laura è in preda all'ansia, quasi certa che in quella casa ci sia qualcosa che non va. Anche i parenti che vivono nella capitale, Mirella e Vincenzo, sono a conoscenza e si preoccupano della situazione. Così un altro zio che abita a Roma prova a dare una mano alla famiglia. D'altronde è così che si fa, no? La famiglia, nel momento del bisogno, c'è sempre. Lo zio sa che Laura e Rosina si erano rivolte in vano a preti e ad altri presunti sedicenti santoni o esorcisti per tentare di scacciare il maligno. Segnala allora una santona di Roma davvero brava che saprà sicuramente capire qual è il problema. Francesca Giananti, conosciuta col nome d'arte di Yvette Duval. Yvette accetta di studiare il caso della famiglia, ma alla fine dà notizie sconfortanti. È necessario liberare la casa dagli spiriti maligni perché, è vero, sono stati colpiti da una fattura molto potente che incombe proprio sul destino di Laura. Yvette dice chiaramente che sarebbe morta di parto, mentre sua figlia non avrebbe mai superato i sei mesi di vita. Ma non è finita qui, infatti secondo le predizioni anche Rosina, la mamma di Laura, morirà presto eppure Michele, il marito di Laura, sarà stroncato da un incidente. Quindi, per liberare la casa dagli spiriti maligni e garantire un futuro sereno alla famiglia, Yvette chiede un compenso di 25 milioni di lire. Il procedimento che deve eseguire è pericoloso e impegnativo, ma a seguito di una trattativa ha consente di ricevere solo 3 milioni di lire. Come già detto, la famiglia in questione è di estrazione umile, non ha a disposizione una somma del genere ed è costretta ad accendere un mutuo per poter pagare la santona. Tutti sono ormai convinti, certi, che in quella casa dimori il maligno, dunque sono disposti a tutto per salvare la famiglia. Quando Laura riesce a partorire la sua bambina a cui dà il nome di Maria Ilenia, nota che la piccola piange spesso, come del resto fanno tanti neonati. Il pianto è il modo attraverso il quale i bambini piccoli esprimono le proprie esigenze e i sentimenti. Si può infatti riconoscere un pianto scaturito dalla fame, dal dolore o dalla collera. Quindi il pianto rappresenta una naturale forma di comunicazione durante i primi giorni di vita del bambino che richiama l'attenzione dei genitori per esprimere la necessità di nutrimento, aiuto, protezione e conforto. È poi compito dei genitori imparare ad ascoltare e interpretare correttamente tale linguaggio. Eppure, i pianti di Maria Ilenia danno problemi fin da subito. Sono intensi, quasi ininterrotti e i suoi genitori non sanno gestirli, farli smettere e non riescono più a dormire. Laura, provata psicologicamente e fisicamente, vive quelle due settimane da neomamma come se fosse precipitata all'inferno. Le sue energie sono prosciugate dalla creatura attaccata al suo petto. Anche se, come detto, è pur sempre il compito dei genitori imparare a interpretare il pianto dei propri figli. Laura e Michele si limitano a pensare che Maria Ilenia sia una bambina fin troppo inquieta. È in questa fase, dunque, che subentra con prepotenza quel sostrato, quell'humus di superstizioni, credenze e fondamentalismo religioso che influenzerà in modo tragico le sorti della famiglia politanò. Nel frattempo, Yvette continua a rimanere in contatto con la famiglia. Quando la maga vede la bimba piangere ininterrottamente, non ha dubbi. Maria Ilenia è posseduta dal maligno, dal demonio. Secondo Yvette, la famiglia è ancora maledetta. Quella fattura rivolta contro Francesco è talmente potente da essersi insediata in Maria Ilenia. Yvette, però, da Roma può fare ben poco. Deve recarsi a Polistena per entrare in quella casa. Così, alla fine dell'estate del 1994, parte. Nello stesso momento, dalla capitale giungono anche gli altri membri di questa famiglia così unita. Mirella Lomicisi, la sorella di Rosina, e suo marito, Vincenzo Fortini. Vincenzo è un fornaio. Ha un negozio da mandare avanti. Ma questa situazione familiare è troppo allarmante per non dare una mano. Yvette, dunque, si stabilisce per qualche tempo a Polistena, proprio come Vincenzo e Mirella. La Santona mostra di nuovo alla famiglia i suoi poteri medianici. Compie delle ipnosi che fanno cadere i soggetti coinvolti in un sonno profondo. I Lomicisi e Ippolitanò, sempre meno scettici e sempre più convinti dei poteri della maga, credono che lei possa aiutarli a sconfiggere il maligno, che si è insinuato nelle loro vite. Da Roma, Yvette ha portato dei libri, delle candele nere e verdi, dei nastri e un pugnale di ferro con sopraincisi dei segni simbolici da utilizzare durante il rituale. Tutti questi oggetti servono a un unico scopo, scacciare il diavolo. La maga dimostra ogni giorno i suoi poteri, poggia le mani su un tavolino invitando la famiglia a imitarla. E, dopo aver pronunciato delle formule e dei riti, ecco che il tavolino si muove, oscilla. Tutti sono sconvolti, si stanno convincendo sempre di più. Yvette è sincera, non vuole truffarli. Lo strumento che la donna usa per le comunicazioni medianiche è una tavola Ouija, costituito da una superficie piatta in genere di legno lucido o in plastica, sulla quale sono riportati i numeri dallo 0 al 9. Tutte le lettere dell'alfabeto, un sì e un no, un addio e a volte due ciao. L'utilizzo di questo strumento è abbinato a un indicatore mobile, la planchette, che funge da cursore. Grazie a questi mezzi, Yvette afferma di poter comunicare con i defunti, con l'oltretomba. La santona mette in contatto Rosina con suo marito Francesco, e anche gli zii di Roma, Vincenzo e Mirella, riescono a comunicare con i propri genitori. Dunque, è deciso. Yvette è attendibile e la piccola Maria Ilenia va liberata da Satana. Questa scelta segna l'inizio della fine. In breve tempo tutti i componenti della famiglia cadono in un profondo stato allucinatorio, pervaso dall'angoscia. Nessuno di loro dorme più, non escono più di casa, perdono la cognizione del tempo, sono preda di una vera e propria suggestione collettiva. Vi partecipano tutti, nessuno escluso. La maga però, dopo circa 20 giorni, decide di tornare a Roma con l'autocompenso nelle tasche. Prima di andare via, però, udite udite, trasferisce i suoi poteri medianici a Domenico Lomicisi, il fratello di Laura di 23 anni, a Maria Barnabà, la cugina di 21 anni, e soprattutto a Vincenzo Fortini, colui che ha il potere più forte di tutti. Dopo pochi giorni, il fornaio si convince di essere la reincarnazione di Padre Pio, ed è l'unico che, appoggiando le mani sul tavolino, riesce a muoverlo proprio come la maga. In Maria Barnabà, invece, si è reincarnata la Madonna di Lourdes e diventa la custode della tabella dei morti, ossia della tavola Ouija. Infine, Domenico, detto Mimmo, vive il delirio più grande. All'inizio si identifica con San Francesco, poi arriva addirittura a sostenere di essere Dio. A seguito della partenza di Ivette, anche Vincenzo e Mirella dovrebbero tornare a Roma perché il forno deve essere riaperto. Ma accade qualcosa. Al termine di un pranzo, Vincenzo si sente malissimo, si avvicina al tavolino e si immobilizza. Tutti i suoi muscoli sono rigidi, non riesce a piegare le gambe, a spostarsi da quel tavolino e nemmeno a parlare. Sembra sotto shock. Vincenzo rimane immobile davanti al tavolino per tutto il pomeriggio. Figherà successivamente che, in quel frangente di tempo, ha sentito un profumo di fiori nell'aria. Verso sera, però, quel profumo si è trasformato in un odore sgradevole di uova marce. Vincenzo, fissando la foto di Padre Pio, scoppia a piangere e dice alla moglie Mirella che lui deve rimanere in quella casa per guarirla. Mirella, infatti, è affetta da una grave malattia che la porta ad accusare diversi sintomi, ovvero disturbi della sensibilità o parestesie, quali formicolii, perdita di sensibilità al tatto, difficoltà a percepire il caldo e il freddo, dolore, disturbi dell'equilibrio e della coordinazione motoria, disturbi vescicali e intestinali. Attenzione, tutti in famiglia ne sono consapevoli. Ciò nonostante, nessuno riprende Vincenzo, anzi concordano. Ora, in casa con loro, c'è proprio Padre Pio. Inoltre, l'atteggiamento di Vincenzo cambia drasticamente. Vincenzo costringe la moglie a camminare infinite volte all'interno della casa, affinché si eserciti. Risvolto ancora più grave, inizia a essere violento, la picchia. E questo risulta piuttosto strano perché il carattere di Vincenzo è sempre stato quello di un uomo mite e tranquillo. Vincenzo rivela anche grandi profezie insieme a Domenico e a Maria Barnabà. Se ricordate, Domenico personifica San Francesco o Dio, mentre Maria Barnabà rappresenta la Madonna. A un certo punto, Domenico sostiene di aver visto il demonio. Beh, lui è Dio, quindi è il primo che può avvistare il maligno, giusto? Lo ha notato, più precisamente, guardando fuori dalla sua finestra, pare se ne stia appeso a un albero proprio davanti alla casa. Terrorizzato, Domenico inizia a urlare, allora suo zio Vincenzo accorre. Domenico lo invita a guardare chi c'è sull'albero. Vincenzo però non vede assolutamente nulla, almeno per ora. Anche Maria Barnabà li raggiunge. Lei, al contrario di Vincenzo, afferma di vedere il demonio. Apre la finestra e rovescia una bottiglietta di acqua santa sull'albero. Tuttavia, l'acqua santa, a quanto pare, non scaccia il maligno. Anzi, da questo momento, ne sono certi, il diavolo è in casa. In poco tempo, anche Vincenzo vede il diavolo, all'interno della dimora. È ovunque, nei muri, dietro le finestre, dietro le porte, nel frigorifero. È da questo momento che inizia la vera lotta contro il demonio. Nessuno può andare via da quella casa, a parte i genitori di Maria Elenia, Laura e Michele, che vanno a pregare in chiesa. Non mangiano, non dormono. L'unica cosa che si concedono di fare è pregare. Pregare giorno e notte. Tutti stanno davvero male, tanto che Vincenzo Fortini quasi non riesce più a camminare. Ma la famiglia non si arrende. Ogni volta che qualcuno vede il demonio, tutti si affrettano per cercare di scacciarlo. Prendono a schiaffoni, a pugni i muri, le porte, le finestre, col fine di respingere il demonio. Arriviamo all'11 settembre del 1994. Tutta la famiglia è riunita in casa, sempre nell'intento di liberarla dal diavolo. Ormai Vincenzo vede questo terribile demone ovunque. La famiglia durante la notte si accampa a casa di Rosina. Le donne si raggruppano tutte in una stanza e gli uomini in cucina. Maria Ilenia, la bimba, e con sua mamma Laura. Vincenzo, Domenico e Maria Barnabà combattono tutta la notte la presenza del maligno, arrivando a sfasciare letteralmente una porta. Quello che affrontano è un nemico per loro visibile, anche se il resto dei componenti della famiglia, il diavolo, non l'ha mai visto, non ha questa capacità. Alle sei del mattino seguente, Vincenzo poggia lo sguardo sulla piccola Maria Ilenia e si rende conto che ora il demonio è proprio dentro di lei. In quel momento la piccola sta mangiando, è attaccata al seno della madre e piange moltissimo. Vincenzo dopo un po' pensa che la bimba sia moribonda, così tenta di farle una respirazione bocca a bocca. Poi le dà uno strattone. Per la prima volta, la bambina appare tranquilla. Questo, allora, è un chiaro segnale. Vincenzo rimette la piccola nelle mani della madre, ma poco dopo chiede a Laura e Michele di andare in chiesa. Devono pregare e accendere ceri per il rito di liberazione di Maria Ilenia. Così, così, ahimè, l'esorcismo ha inizio. E a condurlo e Vincenzo, tutti gli altri piangono e pregano accanto a lui. La bimba indifesa viene adagiata su un tavolo al di sopra di un cuscino, viene denudata e bagnata con acqua di lourde. Poi è sottoposta a un trattamento atroce. Viene percossa sbattuta e picchiata con crucifissi e corone del rosario. Viene torturata e serviziata con ferocia e singolare crudeltà. Tutti accompagnano le violenze con invocazioni a Dio e minacce a Satana. A un tratto, gli improvvisati esorcisti iniziano a soffiare sul corpo nudo della piccola, disposta sul cuscino a gambe aperte per scacciarle via il diavolo dall'interno. Come se non bastasse la lanciano in alto, poi se la passano di mano in mano in maniera spietata e aggressiva. Nessuno, e dico nessuno, mostra un barlume di lucidità. Nessuno tenta di fermare questo terribile atto. Maria Elenia piange e le sue urla sono sempre più acute. Poi di colpo le lacrime diventano singhiozzi. Infine, sfumano nel silenzio. Nonostante questo, le torture continuano e, verso la fine dell'esorcismo, anche i genitori della piccola rientrano in casa. La coppia si unisce a tutto il resto della famiglia, che continua a soffiare negli orifizi del corpo della neonata per far uscire il demonio. Sono convinti che un ultimo soffio, il soffio di Dio, possa bastare che il diavolo se ne sarebbe andato. Invece, al termine di questa pratica terribile, non si manifesta alcun segnale, perché Maria Elenia è morta. È deceduta già da un po' di tempo, ahimè. Immaginate in quale stato delirante si trovassero queste persone. Non si erano nemmeno accorte di averla ammazzata. Maria Elenia era morta quando aveva smesso di piangere. Il suo corpo ormai sfinito si era arreso. Forse un minimo di consapevolezza ora riemerge nei suoi assassini. Ma è troppo tardi. Per me è stato davvero difficile raccontare questa folle e triste storia e sono certa che è dura da digerire anche per voi. Eppure, ci tengo a sottolinearlo, queste persone non hanno messo in atto i comportamenti descritti col fine di uccidere Maria Elenia. No, loro erano convinti di salvarla, di liberare la sua anima dal male. Tuttavia questa non è una consolazione, anzi, rende il destino della piccola ancora più insopportabile. Quando è circa mezzogiorno, i parenti portano Maria Elenia in ospedale. Ma i medici non possono far altro che constatarne il decesso. E qui la parte più dolorosa. È morta da almeno sei ore. Sul suo corpicino ci sono ematomi e altri segni di violenza. L'autopsia definisce le cause del decesso. Forti traumi da scuotimento su tutto il corpo e traumi cranici da percosse. Gli organi sono irrimediabilmente compromessi. Le indagini chiariscono presto la dinamica dell'accaduto e sanciscono la colpevolezza dei personaggi coinvolti. Tuttavia un discutibile iter processuale porta nel 1996 all'assoluzione da parte della Corte d'Assise di Palmi di tutta la famiglia di Maria Elenia. Fatta eccezione per il panettiere 43enne Vincenzo Fortini, ritenuto il solo artifice materiale e responsabile del crimine. L'uomo viene condannato a soli 18 anni di reclusione senza l'aggravante della crudeltà richiesta dal PM. Questa sentenza infatti fa ancora discutere per la sua scarsa incisività. Ritagli di giornale dell'epoca inquadrano una furente Ida Magli, un'antropologa scomparsa nel 2016, che si scaglia contro le sentenze della Corte d'Assise. Avrebbe voluto una congrua condanna per l'intera famiglia, nonché l'ergastolo per Vincenzo Fortini. Francesca Giananti, la sedicente maga Yvette di Roma, sebbene assente al mortale esorcismo, viene condannata a un anno e otto mesi di reclusione per truffa. In sostanza ci troviamo dinnanzi a un iter processuale che ha condotto a condanne dall'entità blanda a fronte di un delitto di rara efferatezza. Quello commesso ai danni di Maria Elenia Politano è uno degli infanticidi più spietati nell'ambito italiano. Un crimine frutto dell'ignoranza, di una visione arcaica del quotidiano, di ossessioni, ma comunque atroce. Superstizione, un cristianesimo distorto e un paganesimo provinciale e rurale si sono mescolati producendo un risultato di abominevole crudeltà. Una vicenda, sotto molti punti di vista, squallida e sudicia. Si è spesso scritto, parafrasando le parole della madre, complice del delitto, ma comunque provata dalla perdita della figlia, che il troppo amore dei genitori abbia portato alla morte della piccola. In realtà, gli unici ingredienti fatali di questa storia sono stati l'ignoranza e la superstizione. Una vicenda di cronaca nera dai numerosi carnefici e un'unica vittima. La piccola Maria Ilenia, morta nel settembre 1994, ad appena 50 giorni di vita. Ragazzi, ho finito di parlarvi di questo caso e non è stato facile, non lo ammetto, non è stato per niente facile, perché questa storia mi ha colpita molto e sono curiosa di sapere qual è la vostra idea, la vostra opinione. Anche perché questo, per quanto mi riguarda, è un caso più unico che raro, cioè non mi pare di aver sentito di altri casi simili, almeno avvenuti in Italia. In America sì, sono successi, ma in Italia non mi pare. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tremendo caso, questo terribile caso, questo tremendo omicidio. Come al solito, quindi ci becchiamo nei commenti qua sotto e vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di non facciate nulla di vita. Grazie.